La Cavese sta concludendo in questi giorni gli allenamenti prima del rompete le righe e si conoscerà presto soprattutto il futuro dell'allenatore Giacomo Modica con cui la società potrebbe incontrarsi a breve. E successivamente si decideranno tutti gli altri aspetti, dalla questione stadio alla programmazione dell'obiettivo per la stagione di Serie C 2019-2020. C'è stato chi, come il presidente del calcio Avellino Mauriello, ha auspicato, in maniera un po' provocatoria per la verità, una divisione dei gironi che non tenga conto del criterio della latitudine, ma solo per dare un equilibrio ai tre campionati e non inserire nello stesso raggruppamento più e più società che vogliano puntare alla promozione in B. Vedi Foggia, Bari, Regina, lo stesso Avellino e altre, tra cui eventualmente Catania e Catanzaro, qualora non riuscissero quest'anno a salire di categoria. Tuttavia è molto difficile che la Lega Pro per la prossima annata rimescoli i gironi di Serie C, perché anni fa aveva provato questa soluzione, salvo poi tornare alla divisione geografica per favorire un contenimento dei costi alle società per le trasferte. Poche eccezioni potevano essere rappresentate dal Trapani in trasferta a Viterbo o dal Rieti sul terreno della Regina, ma davvero erano poche eccezioni. Quindi anche per la Cavese il girone C sarà di livello superiore anche a quello di questa stagione, considerato il fatto che il limite massimo di 15 giocatori over per le società è stato abolito. Ma sul criterio geografico l'eventuale proposta di modificazione dei raggruppamenti partirà dal presidente della Lega Ghirelli. Altre DC, domani torna a giocare la Paganese, che sarà impegnata al Marcello Torre per la sfida di andata dei play-out per non retrocedere in D. Avversario dei campani sarà Ibisceglie, che si è piazzato al terz'ultimo posto con sei punti di vantaggio sui paganesi penultimi davanti al Matera. Mister Alessandro Erra, il tecnico azzurro stellato, non vuole lasciare niente di intentato e ha fatto lavorare moltissimo la squadra sotto l'aspetto difensivo e offensivo. Ha lavorato a parte fornito, causa lieve affaticamento, mentre ha svolto tutta la seduta con i compagni il difensore della Fiore. Sta bene la bandiera Francesco Scarpa. Paganese e Ibisceglie domani prenderai via alle ore 18 e la gara di ritorno sarà giocata sabato prossimo al Gustavo Ventura di Ibisceglie al medesimo orario. Ricordiamo che la squadra che dovesse avere la meglio in questo doppio spareggio andrebbe a giocare con una tra Cuneo e Lucchese per difendere la partecipazione alla Serie C. Il doppio pareggio può bastare al Ibisceglie e invece la Paganese avrà bisogno di vincere.